Siamo qui oggi per il nostro terzo flash mob dopo Parco Sempione e Palazzo Marino per far sentire la voce dello sport ancora chiuso al Consiglio regionale. Siamo ancora ad allenarci sul cemento, visto che lo Stato ci ha dimenticato e siamo in attesa di vedere se qualcuna delle parole che spendono ormai tutti i giorni nei telegiornali da mese può essere salvata dalla nostra regione perché le nostre palestre non alimentano lo sport solamente in Italia ma anche nei nostri comuni e appunto nella nostra regione che come tutte dovrebbe avere dei fondi da attivare per lo sport lombardo che sta morendo. Dall'anno scorso noi abbiamo avuto un unico ristoro di 800 euro a novembre non è più arrivato niente e quello che stiamo aspettando è appunto che qualcosa di buono avvenga. Ho presentato settimana scorsa una mozione che dà la possibilità chiede che le palestre possano mettere a disposizione i loro spazi per poter vaccinare come siti vaccinali da parte sia i loro dipendenti nella vaccinazione di massa con i medici che sono già in collaborazione con le palestre che danno l'idoneità all'attività fisica. Quindi perché non sfruttare i medici che hanno già a loro disposizione e perché non mettere dei luoghi come le palestre come fanno in tanti altri posti d'Italia e visto anche che il commissario Figliuolo di recente ha detto che anche le palestre messe a disposizione dagli enti locali possono comunque servire per la massificazione vaccinale ecco è il momento di dare il via a questa cosa e io credo che si possa partire proprio con la chiusura della zona rossa prevista per il 6 di aprile con la riapertura da recorso a questa possibilità.